Fa discutere il rinnovo degli organi di Anci e Abruzzo oggi, come successore di Gianguido d'Alberto, sindaco di Teramo, è in pole position il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d'Italia, ma questa candidatura divide la politica dopo l'attacco del PD. Fratelli d'Italia, però, che si era seduta già al tavolo col centrosinistra per discutere delle candidature, non ci sta e ritiene la candidatura di Biondi più che autorevole. Fa pure alcune precisazioni il senatore Etel Sigismondi. Le critiche del centrosinistra sono assolutamente pretestuose. Il nome del sindaco Biondi è un nome autorevole, importante, che in questi anni ha già saputo dar voce alle stanze dei sindaci. Voglio ricordare al centrosinistra che quest'oggi non si elegge il rappresentante di un partito, si elegge un sindaco, il sindaco presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani per quanto riguarda l'Abruzzo. E sappiamo perfettamente che un candidato nel momento in cui viene eletto sindaco indossa la fascia tricolore e da quel momento diventa il sindaco di tutta la città. E quindi con la candidatura di Biondi è un riconoscimento sicuramente allo spessore politico e amministrativo del sindaco Biondi, ma è anche un riconoscimento alla città dell'Aquila per ciò che rappresenta per l'Abruzzo, una città che si è saputa rialzare dopo il tragico terremoto e una città che è stata capace di guardare oltre e nel 2026 sarà capitale italiana della cultura. Noi francamente non capiamo perché il centrosinistra non voglia che il sindaco del capologo di regione possa essere il presidente dell'Anci. Francamente questa ostilità nei confronti della città dell'Aquila non la capisco proprio.